Ultimi ritocchi alla città in vista del vertice del G7 in programma lunedì e martedì. Un evento che rappresenterà una vetrina unica per Lucca, che sarà sotto riflettore di media mondiali. In queste ultime ore, i lavori più importanti si stanno concentrando nell'allestimento delle sale di Palazzo Ducale, che ospiteranno le riunioni dei ministri, degli esteri e delle loro delegazioni. Un vertice che è stata quindi l'occasione, grazie ai fondi reperiti e alla possibilità di rimborso da parte del Ministero dei Fondi della Provincia, per un recupero dei restauri del Palazzo, che è tornato alle condizioni di circa 17 anni fa, quando venne restaurato completamente. In occasione del G7 abbiamo fatto un lavoro di recupero del Palazzo Ducale, sia in una parte degli arredi, degli allestimenti, sia negli spazi esterni. Quindi è l'occasione per rimettere a nuovo questo palazzo, che ha un grande significato, è sempre stato il palazzo del governo della città fin dal 1300, e anche poi restituirlo rinnovato ai cittadini. Prevediamo già per il mese di maggio delle visite, delle visite quindi di apertura alla città, e poi abbiamo anche altri progetti appunto di rifunzionalizzazione di Palazzo Ducale proprio con questo scopo. Quindi il G7 è stata una buona occasione anche per questo. Grazie. 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 Grazie.